Ciao a tutti, bentornati. Il mio fratello mi ha sfidato dandomi questo vecchio rottame che è un trapano Black & Dagger vecchissimo penso 40 anni, non so quanti che aveva un bel difetto lo vediamo in sovraimpressione è praticamente il mandrino che oscillava a causa evidente della bronzina dell'albero del mandrino questa signorina qua ve la illumino, eccola qua che oramai insomma era usurata ora come fare? ho costruito una nuova bronzina faremo due video non lo so, vedremo questo completo poi un video specifico su come ho fatto la bronzina ricavata da un ritaglio di teflon di un bancone da macelleria addirittura una sega a tazza prendendo come al solito lo scarto, la carota e una punta al vidia la stessa dimensione dell'albero del mandrino andiamo a vedere grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.